Allora buonasera, sono il figlio di Maurizio Sarri e ho sentito insomma per televisione che uscivano fuori questi tipi di biscotti nuovi, si chiamano Nutella Biscuits. Ho preso un pacco e vedo adesso come sono, insomma al tatto, al sapore, è la prima volta che li mangio e ora li proveremo in diretta con voi. Non mi servono due mani per aprirli, quindi aspettate un attimo, allora ecco qua, li ho aperti, allora sentiamo l'odore che esce su da questo, per tu, gioco è aperto. Cazzo Mazzu, mazzu, mazzu Mmm, e beh, ok, un ottimo sapore, buono, andiamo qua, ne prendiamo uno, lo mangiamo, vediamo com'è, è qua, sembra invitante. Ora provo a mangiarlo Mmm, mega yummy, mmm. Mmm, cazzo se è buono. Mmm, ecco qua quindi. Mmm, minchia. Dicevo, la mia recensione, buonissimo, ottimo, si sente proprio che c'è tanta Nutella, biscotto friabile, un buon gusto pure. E allora, io però siccome non ho capito niente, quindi andiamo, eh. Mmm, buonissimo, buonissimo, buonissimo. La Nutella non è meno 60 troppo, però 60 che c'è, è abbondante, buona, e io che dire, da allenatore, questa è una merendina ottima per i miei calciatori, buonissima, ora mi rivedremo nelle prossime conferenze stampa, che faremo prima e dopo le partite, intanto faccio gli schemi e gli allenamenti, quindi vi saluto dal figlio di Sarri perché vado ad aiutare mio padre, eh, mmm, mmm, vado, mmm, chao.